Buongiorno, eccoci nella nostra edicola, andiamo a vedere subito i giornali, cominciando da Repubblica. Renzi ignora le critiche e attacca, il segretario del PD pensa a un partito personalizzato stile Macron, non mollo punto al 40%, i ministri Dem non lasceremo che renda il PD una bad company, grasso dare speranza al paese. Dal centro-sinistra al centro-destra Berlusconi, Salvini e Iveti per decidere chi sarà il premier del centro-destra. E poi andiamo a Venezia, avanti molto ad agio, così Venezia dirotta le meganavi, saranno deviate lontano da San Marco ma soltanto tra qualche anno. E qui nella foto appunto una nave da crociera che oscura la visuale da Piazza San Marco, molto bella questa fotografia, andiamo poi in taglio basso, l'inchiesta di Repubblica, più donne al vertice ma senza potere e poi l'attore Valerio Mastandrea sulle molestie, sto con Asia Argento, ha avuto coraggio. Questa la prima in sintesi di Repubblica, entrando all'interno le scelte dei partiti, il centro-sinistra, l'ultima tentazione di Renzi, cambio tutto come Macron. Dal programma alle liste, l'ex premier prepara una campagna e un post-elezioni senza i lacci del partito. Il messaggio ai fedelissimi basta, torno a fare me stesso. Qualche virgolettato dell'intervento di Renzi ieri alla 7. Innanzitutto non mollo, sono mesi che vogliono farmi fuori, avanti senza mollare di un centimetro. Se la smettiamo di litigare, insieme ai nostri compagni di viaggio riavremo il 40%. Il futuro premier è un dibattito sterile, la decisione spetta al prossimo Parlamento. E poi su Di Maio dice il nulla. Di Maio che ha evitato il confronto proprio alla 7. a scuola c'era sempre un Di Maio. Diceva ti aspetto fuori, tu scendevi e lui non c'era. Ancora Renzi ne ho piene le scatole e prepara una Leopolda hard con le riflessioni su un nuovo simbolo. Continuando a parlare di centrosinistra, la diga dei ministri Dem contro Renzi, il PD non è sua proprietà. Il rischio di un'altra scissione è concreto. Il retroscena, la tela di Orlando e la delusione di Franceschini che dice Mi aspettavo aiuto dai padri nobili. All'ordine del giorno, della direzione del partito, non c'è il voto in Sicilia, ma vitalizzi e campagna elettorale. E intanto il Quirinale contro i rumor sul voto a maggio è pura fantasia. La data del voto non è stata ancora decisa, chiarisce il Quirinale. In taglio basso, a sinistra, tutti d'accordo su Grasso, Pietro Grasso, leader in pectore, sarà il nostro candidato premier. Da MDP a Civati si accelera su programma il nuovo partito, ma si registra la freddezza da parte di Giuliano Pisapia. Dal centrosinistra al centrodestra, i nomi di chi sarà il premier della destra. Con Berlusconi fuori dai giochi, ecco i papabili per Palazzo Chigi. Sono questi i nomi, raffigurati anche nelle fotografie. Il presidente dell'Europarlamento Tajani, che gode della fiducia del Cavaliere. Ma c'è il veto di Salvini e il no della Merkel alle dimissioni da presidente dell'Europarlamento. Il leader della Lega Salvini, Berlusconi però non gli cede la leadership del centrodestra. Gianni Letta, a 82 anni, resta la prima carta di Silvio Berlusconi, l'unica persona di cui mi fido ciecamente. E il governatore Veneto Zaia, reduce dal successo nel referendum sull'autonomia e il volto moderato della Lega. Un altro nome che circola è quello del capogruppo al Senato Romani. Intanto l'ultimo sondaggio della Ghisleri dà il centrodestra al 38,3%. Cambiando argomento, andiamo a pagina 14. Trump in Asia, la missione del presidente americano a Seul. La svolta pacifista di Donald Kim venga al tavolo per un accordo. Il presidente americano cambia strategia e a sorpresa rinuncia ai consueti toni bellicosi. Pyongyang faccia la cosa giusta e ai militari dice vedrete, alla fine tutto si risolverà. Qui nella foto un brindisi tra il leader sudcoreano e il presidente degli Stati Uniti a cena con Melania alla Casa Blu, la residenza presidenziale di Seul. Il lungo intervallo di pausa dei test nucleari della Corea del Nord sarebbe la prova dell'apertura di un sotterraneo canale negoziale tra Stati Uniti e Corea del Nord. E poi proseguendo ancora da Repubblica, andiamo a pagina 18. La cronaca, il racconto, concetta la guerriera, nel mio gesto tutta la rabbia degli invisibili del lavoro. Si era data fuoco in una sede dell'Inps dopo aver perso il posto. La sua storia ora è diventata un libro di Gad Lerner su quel che resta della classe operaia. E insomma, concetta una storia operaia, sarà da domani in libreria. Concetta Candido interverrà alle 18 alla Feltrinelli. La presentazione con l'autore a Settimo Torinese, appunto la sua città. Non disoccupati ma indigenti, presi per fame, con contratti indegni, a tempo e senza tutele. C'è chi si accontenta di 40 euro al mese pur di restare aggrappato ai margini del sistema. Intanto concetta è uscita dall'ospedale, parla e chiede giustizia. Voglio quello che mi spetta, gli arretrati e un'occupazione. E aggiunge, non volevo suicidarmi, solo urlare la mia rabbia e farmi ascoltare. Ancora da pagina 18 parliamo della procura antimafia. Alla procura antimafia arriva Caffiero Derao. Questa è la nomina che verrà ufficializzata nelle prossime ore dopo il ritiro di Scarpinato. E poi Genova, il comandante sparito, ucciso dai suoi ufficiali. Due arresti sulla MSC Giannina. Questo per quanto riguarda pagina 18. Chiudiamo Repubblica Nazionale con pagina 19. Parliamo di ambiente Venezia. Grandi navi via da San Marco. Insorgono gli ambientalisti. Non basta. Il ministro del Rio. Fra tre anni andranno le grandi navi a Marghera. Il fronte del no vanno tenute fuori dalla laguna. La soluzione è votata da tutti con un solo no. La soluzione è quella di deviare le navi lontano da San Marco. L'unico no è quello del sindaco Grillino di Chioggia. E dunque ancora oggi le navi da crociera sfilano davanti piazza San Marco. Poi ancora a proposito dell'ambiente. L'emergenza in Campania. Colata di fango invade Positano. Il sindaco siamo nel dramma. I soccorsi sono arrivati via mare. Tra poco approfondiamo anche con un servizio. Ma intanto prendiamo la prima di Repubblica Napoli. Dove troviamo le universiadi della spesa. 600 mila euro per quattro esperti. Uno è il direttore del CUS di Salerno. Intanto già impegnati per le universiadi 30 milioni. Il manager Ernesto Albanese non sarà consulente. Ora serve un modello expo per le universiadi e tempi più rapidi. E poi qui di spalla 200 mila laureati in fuga dal mezzogiorno. Lo dice il rapporto Svimez sull'economia. Persi 30 miliardi in formazione. Il commento del rettore Manfredi. Trasferite al sud i centri direzionali. Rettore della Federico II. Vi dicevo dell'emergenza maltempo. Segnatamente in costiera amalfitana. Pioggia, fango e detriti. Paura a Positano. È stata notte di terrore a Positano. La perla della costiera amalfitana flagellata dal maltempo che ha causato l'esondazione del torrente Rivo dei Mulini. E poi il Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi Federico Caffiero De Rao, procuratore nazionale antimafia. Perché Scarpinato ha ritirato la candidatura. Prendiamo pagina 7 all'interno. Fango e detriti. Emergenza a Positano. Notte di paura in costiera. Esonda il torrente Rivo dei Mulini. Allagate le strade della cittadina amalfitana. Fondamentale l'arrivo via mare di due escavatrici da Castellammare di Stabbia. Il sindaco parla di un capitano della nave eroico. Piogge ovunque, anche nel resto della campagna. E ad Aversa crolla il tetto della palestra di un istituto. Scuole chiuse in molti centri tra Napoli e Salerno. Ed è stato prorogato lo stato di allerta. Allora, su questa emergenza maltempo in campagna e segnatamente in costiera. Vediamo le immagini con il servizio. Non c'è pace per la campagna dove allerta maltempo ormai da 48 ore. Allarme sul Vesuvio dove si segnalano i primi cedimenti dovuti agli incendi che hanno devastato il suolo. Intanto la protezione civile della campagna segnala che i rischi maggiori interessano soprattutto la costiera sorrentino-amalfitana ed alcune zone al confine tra la provincia di Napoli e quella di Salerno. Michele De Lucia, sindaco di Positano, parla di situazione drammatica. La pioggia continua a cadere senza soste tra fango e detriti. Il centro di Positano è devastato da una vera e propria slavina di materiali piombati da monte a mare. Scuole chiuse anche domani dunque in via precauzionale. I punti più critici restano tre, la spiaggia, l'area dell'isola ecologica e le frazioni di Monte Pertuso e Nocelle. I soccorsi sono dovuti arrivare via mare. Anche i sindaci di Nocella Superiore e Cava dei Tirreni sono alle prese con l'allerta. Hanno firmato ordinanze di sgombra o in via precauzionale per alcune aree del proprio territorio di competenza. Sono 13 le famiglie interessate a Cava, 25 a Nocella Superiore. Ci sono i centri di accoglienza già pronti ed aperti. Intanto l'isola di Capri continua a restare isolata tra onde alte e vento forte. Situazione critica anche a Torre del Greco e in altri paesi vesuviani. Il centro funzionale sulla base delle ultime elaborazioni meteo ha prorogato l'allerta fino a mezzogiorno di domani in tutte le zone della Campania, eccezione fatta per Alta Irpinia, Sagno e Tanagro dove permane la Gialla. Disaggia anche per i collegamenti ferroviari sulla linea Napoli-Poggio Marino dove per l'allagamento della stazione di Scafati le corse per lungo tempo sono state limitate alla fermata di Bosco Reale. Siamo al mattino, in apertura c'è Renzi, non mi farò cacciare il segretario del PD in TV, no avveti sulle alleanze, il Colle smentisce il piano per il voto a maggio. Ancora Renzi, il Premier lo decide il Parlamento, ma Gentiloni non è lì a caso. E intanto Bersani lancia Pietro Grasso, poi De Luca che sfida il Nord, regole uguali per tutti, il governatore, federalismo sì, spesa storica no. Al sud intanto più lavoro, ma ci sono sempre più cervelli in fuga. E poi abbiamo visto il maltempo a Versa, gli studenti erano appena usciti dal liceo quando c'è stato un crollo in palestra con la strage, fortunatamente soltanto sfiorata. La nazionale verso il playoff con la Svezia, in segno escluso così Ventura, mette al bando la creatività. Questa è la prima nazionale del mattino, da cui vediamo un po' di sport. Pagina 18, il Napoli. Rebus Pepe, Reina soffre ancora per il mal di schiena, ma intanto non rientra a Napoli. Il CT spagnolo potrebbe evitargli il viaggio di martedì in Russia. Dolori alla schiena per il portiere spagnolo che, sapete, ha saltato la partita di Verona contro il Chievo in cui ha giocato Sepe. E a proposito di Sepe, Sarri lo ha promosso. Primo vice, primo vice Reina, se ci sono problemi, toccherà ancora a te. Intanto è intervenuto sul momento della squadra Marek Hamsik. Noi in crisi non perdiamo da 24 partite. Un inciampo può sempre capitare, riferendosi alla partita con il Chievo, ma Allegri e Di Francesco hanno più cambi e soprattutto riescono a vincere anche dopo gli impegni di Coppa. Roma e Juve applicano un maggiore turnover dopo le gare di Champions. Sarri fa una media di 2,25 sostituzioni, Allegri 3,75 di Francesco addirittura 4,5. E ancora dallo sport, il rapporto tra calcio e camorra, azzurri e camorra, la FIGC archivia, De Laurenti si chiarisce sui biglietti. Parliamo dell'inchiesta della Procura federale sulla distribuzione dei tagliandi per le partite al San Paolo. Nessuna relazione tra giocatori del Napoli e zone grigie della tifoseria. Sono sotto esame i ticket omaggio. Entro fine novembre dovrebbe arrivare la decisione. Ha parlato ieri l'avvocato Mattia Grassani, l'avvocato del club azzurro. De Laurentiis ha tagliato ogni tipo di relazione con certe frange del tifo. Anche su questa notizia vediamo il servizio. La Procura federale della FIGC ha archiviato l'inchiesta sui presunti rapporti tra calciatori del Napoli ed esponenti della criminalità organizzata. Giuseppe Pecoraro, capo della Procura della FIGC, ha notificato il provvedimento alla società azzurra dopo l'audizione di stamattina avvenuta negli uffici della Fil Mauro con il presidente De Laurentiis. L'inchiesta era scattata dopo l'arresto nello scorso giugno dei tre fratelli Esposito, imprenditori nel ramo dei giocattoli in odore di camorra, ritenuti vicini ad alcuni calciatori azzurri. In particolare al vaglio della Procura federale c'era la vicenda di alcuni biglietti omaggio che il club avrebbe riservato a tifosi vicini alla camorra. Avevamo avvertito da subito una sensazione positiva, ha spiegato Mattia Grassani, legale del club azzurro. Non c'è stata alcuna condotta da debitare al Napoli e al presidente De Laurentiis. Sono stati sentiti nel corso del tempo calciatori e dirigenti e mancava solo il presidente da ascoltare. Le accuse ci sembravano da subito infondate. Tutto è bene ciò che finisce bene e non ci sono più sospetti sul Napoli. Il caso è stato ufficialmente archiviato. Il presidente Azzurro ha ribadito che nessun giocatore o membro dello staff ha avuto contatti con la malavita organizzata. Ogni forma di sospetto è assolutamente passata. Pensiamo al calcio giocato. Il Napoli si è sempre battuto per controllare chi entra al San Paolo per far sì che si possa godere dello spettacolo in maniera controllata. Domani intanto il comitato mafia e sport della commissione antimafia presieduto da Marco Di Lello ascolterà proprio il procuratore Pecoraro. Ma a questo punto, dopo l'archiviazione, il caso va sgonfiandosi. Siamo al mattino Napoli. L'operazione blitz contro il clan Mallardo. Le mani sulla città. L'allarme della DDA. L'organizzazione è ancora molto potente. L'operazione tra Giuliano e la Toscana. 20 misure cautelari e sequestri milionari di immobili, conti e società. Poi parliamo del comune di Napoli. Piano anticrack. Rischio dissesto. Audizione alla Camera. De Caro, presidente del Lanci, si autorizzi il riequilibrio. Da Roma uno spiraio, ma più paletti per gestire il debito. Mal tempo, incubo, crolli e fango. Alberi caduti a Napoli. La Sorrentina ancora in tilt. E poi i bus, il caso, pugno di ferro sugli inidonei, via la patente. Richiesta della ANM alla motorizzazione sul prezzo dei biglietti. Nuova fumata nera. Questo per quanto riguarda la prima interna del mattino Napoli. Adesso iniziamo il giro delle altre province. partendo da Avellino. Il caso del liceo Mancini, chiuso dalla procura. Gli studenti in piazza. Sempre più probabile l'adozione dei doppi turni. Domani nuovo confronto per valutare le alternative. Oggi invece la manifestazione degli studenti che faranno anche tappa al tribunale. Insomma, servono ancora 48 ore per una soluzione. Poi l'allarme lanciato dall'ordine degli ingegneri. Inadeguato in città. Un edificio su due andrebbe adeguato sismicamente. La gestione del teatro Gesualdo. Un altro no alla proposta di Foti dalla seduta congiunta delle commissioni trasparenza e cultura. L'appello del comandante dei carabinieri Cagnazzo a proposito delle baby squillo che venivano sfruttate. Induzione alla prostituzione in un circolo in pieno centro cittadino. Baby squillo, raccontate per liberarvi, dice Cagnazzo. E poi, da vallata alla cronaca, si spara con la pistola del papà un quindicenne in fin di vita. Colpo alla testa, il ragazzo è ricoverato al rumbo di Benevento in condizioni disperate. Per quanto riguarda lo sport, Avellino resta la difesa a tre promossa dopo la partita di Perugia. Sidigas si ferma anche il play uruguayano Fittipaldo. Non ci sarà sicuramente per una ventina di giorni a cominciare dall'impegno contro il Nimburg in Champions League. Questa è la prima di Avellino. Adesso prendiamo quella di Benevento dove troviamo anche qui il maltempo. Torna la paura. Aree a rischio monitorate. Continuano le precipitazioni. Sotto controllo Frane e Costoni. Attenzionate le valli Caudina e Telesina. E poi, bilancio e dissesto. Parliamo del comune. Primo via libera. Il risanamento in atto dovrebbe portare Palazzo Mosti fuori dall'emergenza finanziaria. Ora sarà il Ministero dell'Interno a valutare i conti. Poi la discussione arriverà in consiglio. La città, le sfide, un supermarket doc nello storico cinema San Marco. Questa è l'ipotesi che va profilandosi. E poi l'incidente. Parliamo di cronaca. Scontro frontale tra auto. Sei feriti. Ieri sera, poco prima delle 20, sulla tangenziale Ovest nel tratto tra Santa Clementina e la stazione ferroviaria. Sei feriti lievi. E poi chiudiamo con il calcio. Benevento da oggi in ritiro a Roma parte la cura dei Zerbi. Da Benevento ci spostiamo su Caserta dove troviamo innanzitutto la cronaca. Racket sul litorale. Scacco matto alla gang. Minacce ai commercianti di Sessaurunca, Cellole e Baia Domizia. Carabinieri e DDA arrestano quattro persone per estorsione aggravata dal metodo mafioso. E poi anche qui l'emergenza maltempo. Pioggia e incuria. Crollo in palestra. Ancora disagi per una bomba d'acqua. In città riaprono le scuole. Off limits soltanto la di Amicis. Tragedia sfiorata. Al volta di Aversa dove è collassata una parte del tetto e la provincia chiude l'istituto. Questo per quanto riguarda Caserta. Chiudiamo il giro delle province con Salerno. E allora troviamo Lutto migranti. La politica sinchina. Il sindaco proclama la giornata del cordoglio per le 26 migranti morte. Via alle autopsie. Verità più vicina. Decisione della Giunta per onorare le 26 ragazze. L'opposizione sostiene l'iniziativa giovedì messa della Caritas. Le testimonianze di questa tragedia i volontari raccontano quasi tutte le donne hanno subito violenza. Il bimbo nato due volte è partorito e salvato sul barcone dalla mamma Coraggio. Completiamo la prima e poi vediamo un servizio sulla notizia delle migranti morte. La Kermes lucida artista luci in sicurezza. Ecco i rinforzi. Ci saranno più pattuglie dei carabinieri. Sabato pomeriggio ci sarà l'inaugurazione di luci d'artista e poi la cronaca prostitute in subaffitto clienti giovani quattro arresti blitz dei carabinieri in cella finisce del giorno operatore del by night scoperto un giro del sesso a pagamento tra Salerno Ponte Cagnano e Baronissi prestazioni fino a 100 euro. E poi la salernitana Rodriguez e Rossi ok Bollini sorride verso il recupero l'attaccante Rodriguez e poi anche Rossi dopo essere stato convocato dall'Under 20 sarà comunque arruolabile per la trasferta di Cesena. Intanto per quanto riguarda il mercato degli svincolati virata sul rumeno Popescu. Allora il servizio sulla giornata del cordoglio per le 26 migranti morte. La giunta di Salerno ha annunciato il lutto cittadino nel giorno in cui saranno celebrati i funerali delle 26 giovani donne nigeriane morte durante la traversata nel Mediterraneo. La decisione è arrivata questa mattina nel corso della riunione dell'esecutivo presieduta dal sindaco Vincenzo Napoli. Intanto il pool di medici legali ha consegnato in procura i risultati degli esami esterni sui poveri resti della ragazza. In attesa di capire se ci saranno le autopsie il municipio salernitano ancora non ha fissato la data dei funerali. Quel che è certo comunque è che il giorno delle segue fissate presso il cimitero monumentale Salerno sarà listata a lutto. Le indagini per ricostruire le circostanze in cui le giovani donne hanno perso la vita proseguono mentre i due nordafricani un libico e un egiziano sono stati fermati con l'accusa di essere gli scafisti della morte. Dei circa 400 sbarcati 72 migranti sono rimasti in campagna. A Salerno situazione particolarmente complicata per l'accoglienza ai minori come sottolinea l'assessore e alle politiche sociali Nino Savastano. Non ci si fa anche per quanto riguarda i minori strani non accompagnati. Oramai le strutture di accoglienza sono salve e quindi diventa sempre più difficile insomma ragionare per poter accogliere al meglio questi bambini. Da registrare infine la valanga di commenti intolleranti sul web. Molte persone come annunciato il sindaco Enzo Napoli hanno avuto parole razziste persino di fronte a una grande tragedia del mare come quella che ha visto Salerno domenica mattina. Una sparuta minoranza secondo la fascia tricolore ma che lascia pur sempre l'amaro in bocca. Il Corriere dello Sport Italia Mondiale dice Roberto Mancini il tecnico dello Zenit parla a cuore aperto di Nazionale Scudetto lancia gli azzurri battete la Svezia e venite in Russia poi vi aspetta un grande futuro con giovani al top. E poi Napoli applaude le prodezze del suo attaccante Kalleon il nuovo re in quattro anni ha segnato 52 gol in Serie A e il primo bomber spagnolo in Italia ha superato il record del mitico Suarez dopo 44 anni. Questa la prima del Corriere dello Sport. Prima di chiudere il nostro sito e allora la sezione di Napoli cominciamo oltraggio a pubblico ufficiale la solidarietà del sindaco a Fratta Maggiore è accaduto in un comune dell'area nord di Napoli appunto Fratta Maggiore dove i carabinieri hanno deciso di intensificare il loro presidio durante i weekend dando via all'operazione Movida Sicura e ottenendo appunto la solidarietà del sindaco perché c'era stato un episodio di oltraggio a pubblico ufficiale durante questi controlli dei carabinieri andiamo ancora avanti sempre dai comuni Fratta Maggiore l'Asla Napoli 2 nord è alla ricerca dei colleghi esemplari il riconoscimento arriverà a Natale colleghi da premiare in occasione della prossima festa di Natale aziendale ancora da Napoli scorriamo le altre slide maltempo frane sul Vesuvio e sgomberi in costiera paura sul Vesuvio il sindaco di Positano parla di situazione drammatica in costiera l'ultima slide è questa scacco al clan degli scissionisti Maxi Blitz all'alba di ieri duro colpo inferto al clan Mallardo e a quello dei Paparella lasciamo Napoli per prendere Avellino Pietra De Fusi Maxi Rogo in autostrada a fuoco un articolato è successo ieri sera sulla A16 Napoli Canosa i vigili del fuoco sono intervenuti nel territorio del comune di Pietra De Fusi per l'incendio di questo auto articolato che trasportava pezzi meccanici ancora dal capoluogo guirpino scorrendo colpo di arma da fuoco alla testa quindicenne di vallata in fin di vita al rummo di Benevento va all'asl per il vaccino trova la solita macchinetta rotta la denuncia di un cittadino la macchina per i ticket di nuovo fuori servizio e poi l'ultima slide da Avellino bomba carta contro un negozio a valle parliamo di cronaca giudiziaria attesa per il test nella prossima udienza è attesa una testimonianza rilevante i fatti contestati risalgono al febbraio 2016 quando fu fatto esplodere un ordigno artigianale di fronte all'ingresso di un negozio in via Saverio Marotta nel quartiere Valle di Avellino lasciamo l'Irpinia e andiamo nel Sannio Benevento scontro frontale sulla tangenziale Ovest sei feriti ci sono le foto l'impatto tra una lancia Libra e una Fiat Punto e poi scorrendo ancora dal Ministero ok al bilancio stabilmente riequilibrato parla l'assessore Serluca sono stati apprezzati i chiarimenti forniti durante il periodo istruttorio andiamo avanti sempre dal capoluogo Sannita Benevento oltre 60 case occupate abusivamente ieri c'è stato l'incontro ai servizi sociali tra i vertici di Palazzo Mosti e le associazioni da cui è emerso questo dato sarebbero oltre 60 le case occupate abusivamente e poi per chiudere Benevento la cronaca giudiziaria non ho abusato del compagno di Cella è soltanto una cattiveria un quarantenne accusato di aver violentato un trentenne nel carcere di Benevento si difende in aula lasciamo Benevento prendiamo Caserta la cronaca tragedia sfiorata crolla il tetto della palestra della scuola all'istituto Volta di Aversa e poi registro dei roghi il consigliere regionale Zinzi da oggi un tavolo permanente ieri c'è stato l'incontro con le associazioni si è parlato appunto delle aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti parliamo della riunione della terza commissione speciale terra dei fuochi bonifiche ed eco-mafie ancora scorrendo da Caserta Camorra colpo al clan quattro arresti sulla Domiziana e poi la cronaca ruba scarpe al centro commerciale arrestato un ventenni aveva rotto il sistema antitaccheggio per poi allontanarsi con due paia di scarpe per chiudere la sezione di Salerno la morte del sindacalista Ciancio e il cordoio del sindaco Napoli per l'amministrazione comunale un'improvvisa e dolorosa scomparsa e poi scoperte case a luci rosse arrestate tre persone sequestri di immobili per circa due milioni di euro tra Ponte Cagnano e Baronissi barche in difficoltà interviene la guardia costiera salvate le persone a bordo è accaduto nel primo pomeriggio di ieri nello specchio d'acqua antistante la spiaggia di Santa Teresa a Salerno andiamo ancora avanti a scorrere l'ultima slide da Salerno celle strapiene sanità a rischio l'inferno del carcere di Furni tappa nel salernitano per il garante dei diritti dei detenuti Samuele Ciambrillo che sta portando appunto avanti una battaglia per restituire maggiore dignità ai detenuti nelle carceri campane è tutto per l'edicola di stamattina grazie in regia ad Aldo Fenizia aggiornamenti dal touch che tornano alle 11 a mezzogiorno il TG Flash Avellino e poi alle 14 e alle 14 e 30 il TG News e il TG Sport da Angelo Giuliani una buona giornata arrivederci a presto